All'Aquila primo evento dedicato alla spumantizzazione abruzzese con masterclass e banchi d'assaggio. È stato Abruzzo in bolla, organizzato da Virtù Quotidiane e dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, ospitato nello splendido colonnato dell'emiciclo. Il primo spumante in Abruzzo risale al 1983. Oggi in Regione c'è un marchio collettivo, tra bocca, un brand per valorizzare tutti gli spumanti abruzzesi. Marco Signori, con Virtù Quotidiane e con il Consorzio di Tutela dei Vini avete voluto fare questo bel evento. È il primo dedicato alla spumantizzazione in Abruzzo. L'Abruzzo sulle bollicine vuole dire la propria e lo sta già facendo. C'è un marchio tra bocca, insomma tante cose si sono fatte. Oggi però è bello far incontrare produttori pubblico ed esperti del settore. Esatto, non soltanto esperti, conoscitori e appassionati, ma anche il grande pubblico. E non soltanto il neonato marchio tra bocca, quello è stato sicuramente l'input. Tutto il merito del marchio tra bocca è un altro, è quello di aver riportato la produzione in Abruzzo e soprattutto di aver rilanciato il dibattito. Tant'è vero che qui abbiamo messo insieme chi fa il tra bocca, chi fa lo spumante tra bocca, quindi metodo italiano, chi fa il metodo classico. E soprattutto abbiamo messo insieme, e questa è la cosa più bella, aziende grandi, cooperative, 3.000 soci, vignaioli, quelli ad esempio che lavorano e conferiscono a Citra, piccoli vignaioli artigiani come Ciccone o Valente nella profonda provincia di Teramo. Quindi c'è un po' di tutto. Ci sono le grandissime realtà, ci sono le piccole cantine familiari, ci sono le aziende che spumantizzano solo da poche vendemmie, ci sono quelle che lo fanno da decenni. Quindi pensiamo a Faraone che è qui e che spumantizza addirittura dall'83 la prima autorizzazione a spumantizzare in Abruzzo, un metodo classico. Faraone lo ringrazio doppiamente perché ci ha deliziato anche con una verticale di annate storiche nell'anteprima che abbiamo fatto ad agosto. 12 le aziende che sono qui e anche delle masterclass speciali con degli esperti, con abbinamenti anche poi con i nostri cibi del territorio, per esempio la Ventricina. Sì, due masterclass condotte da due mostri sacri della critica e dell'informazione anogastronomica italiana come Luciano Pignataro e Luigi Cremona. Entrambi si sono focalizzati sull'abbinamento tra spumanti e prodotti del territorio, uno i salumi spalmabili dell'Adriatico, l'altro salumi e formaggi dell'Aquilano. Comunque devo ancora ringraziare le aziende che ci hanno creduto, c'è molta diffidenza ancora, invece le 12 che hanno aderito lo hanno fatto convintamente, da subito hanno sostenuto e non solo economicamente, anche moralmente, umanamente questa manifestazione che si può dire riuscita, che vuole solo essere la prima, il consorzio l'ha sposata, non è potuto essere presente. Io lo ringrazio il presidente Alessandro Nicodemi perché è impegnato in un miaggio dall'altro capo del mondo per promuovere i nostri vini abruzzesi, ma il sostegno del consorzio è naturalmente fondamentale. Assessore Imprudente, ancora un evento molto bello per parlare di spumatizzazione, ma soprattutto delle ricchezze del nostro Abruzzo. Solamente sì, evento oggi qui all'Aquila che serve proprio a far conoscere le nostre bollicine e mettendoli insieme a quelli che sono anche delle nostre tipicità, dei nostri prodotti tipici. Quindi cercare sempre più di far crescere la nostra bollicina, far crescere quello che è il nostro territorio e poi nel momento in cui abbiamo questa consapevolezza, come sta maturando, affrontare quelli che sono i mercati e ciò che i mercati ci richiedono, andando a livello nazionale e soprattutto internazionale, partecipando a eventi, mostre, fiere, come stiamo facendo in questi ultimi anni con un modello che è il modello Abruzzo che tiene insieme un po' tutti quanti gli attori della promozione. Ecco, un trend che sta funzionando perché insomma questo esportare, anche la comunicazione fuori, partecipando a fiere, lo avete fatto in molte occasioni, sta funzionando, sta portando dei riscontri pratici. Assolutamente sì, questa è l'innovazione vera che abbiamo introdotto in questi anni, è quello di costruire il brand Abruzzo e poi dentro il brand Abruzzo ognuno rappresenta il proprio territorio, il proprio prodotto, la propria qualità. Noi abbiamo messo insieme le camere di commercio, abbiamo messo insieme i galli, abbiamo messo insieme i distretti agricoli di qualità, c'è dentro l'Arab con l'internazionalizzazione, cioè tutto un sistema che si muove oggi e che cerca di muoversi unito, proprio per fare il famoso detto, l'unione fa la forza, e andare a rappresentare l'Abruzzo e spiegare che cos'è l'Abruzzo, che non debbo spiegarlo ovviamente a noi perché noi abruzzesi conosciamo bene quello che è il valore della nostra terra. E poi soprattutto spiegare che la qualità dei nostri prodotti è superiore alle altre anche perché è frutto di una terra particolare incontaminata. All'Aquila, critici gastronomici ed esperti del settore, con 12 aziende presenti, importanti. L'Abruzzo, insomma, vuol far parlare di sé. Io con l'Abruzzo ho un feeling particolare. Nel 2019 abbiamo organizzato a Pescara il primo festival nazionale espumante Italia, proprio in accordo con il consorzio e con i produttori abruzzesi, coinvolgendo tutta Italia. L'abbiamo ripetuto nel 2020, poi essendo un programma itinerante espumante Italia on the road, che quest'anno è diventato anche Bubble on the road, la mia rivista, il mio magazine che portiamo in giro di bollicine, credo che sia essenziale per costruire una cultura intorno ai telebollicine perché le aziende abruzzesi hanno bisogno di avere un punto di riferimento sul quale costruire un'analisi dello stato dell'arte delle cose. Questo potrebbe essere un minimo, come prima edizione va benissimo, ci deve essere anche una cultura dietro per far comprendere le aziende che quello che hanno fatto forse non è sufficiente o che quello che hanno fatto è già sufficiente. Però come si fa a capirlo se non hai un confronto con il mercato, con l'opinion leader, con tutta una serie di altre figure che ti possono dare degli indirizzi? E questi sono gli scopi principali di queste iniziative, che a prescindere dal fatto delle aziende, del numero delle aziende, devono essere un punto di riferimento per averci un quadro dello stato dell'arte della spavantistica abruzzese. Per lei c'è un po' crisi del vino, nel senso che viene attaccato anche per presunti rischi alla salute, insomma se ne è parlato spesso ultimamente. C'è una crisi anche nel consumo, magari a favore, che so, di cocktail ad esempio? Ma la mixology è un punto di forza del consumo del vino, il vino non può essere visto o ghettizzato per altre cose. Il problema fondamentale è che, ritorno al discorso iniziale, è tutto collegato, perché se non addestriamo la cultura del vino a essere fruibile dal maggior numero di persone e continuiamo a parlare di cose difficili intorno al quale le persone normali, o quelle persone che non sono addette, i profani, o le persone che si accostano al vino per la prima volta trovando difficoltà nella comprensione, si allontano e cosa fanno? Mixology o birra, e quindi automaticamente è questo. In più tutto questo continuo parlare dei danni che l'alcol può provocare quando il consumo di alcol è più riferito a superalcolici che al vino, anche nei giovani. Se consideriamo che i danni celebrali che provoca l'alcol e parlo di superalcolici ai ragazzi di giovanità è molto alto, cosa che non fa il vino, perché poi alla fine il vino non provoca questi danni in questa maniera. Il consumo del vino, la bollicina per esempio, non ha calo, vanno molto calo i rossi, i bianchi stanno leggendo molto bene, il mercato internazionale regge la bollicina come i bianchi, il rossi purtroppo sta calando un po' di consumo. Il problema è che c'è una discrepanza e una forbici di qualità completamente differente fra i grandi vini che reggono il mercato e il vino da poco, o quello da poco prezzo, che non regge più il mercato. Primo evento dedicato alla spumatizzazione in Abruzzo. C'è crisi, secondo lei, oggi del vino? Alcuni dati negli Stati Uniti sono poco confortanti, in Italia magari non è così, ma che cosa si sbaglia? Beh, sicuramente il vino non sta benissimo, forse non solo il vino non sta benissimo, e le bollicine nel tutto un po' reggono, perché poi si vede che il consumo ancora tengono e così via, però c'è più che altro, secondo me c'è anche un po' io mi auguro un po' filologico, perché dopo una crescita così brillante come c'è stata del vino negli ultimi anni, con delle quasi a doppia cifra, di anno in anno, non dico doppia cifra, ma insomma una cavalcata sicuramente, fisiologicamente si ci deve essere un po' di... non può sempre aumentare all'infinito, quindi c'è in questo momento sicuramente una riflessione su quello che è lo stato del vino e così via. Io sono abbastanza ottimista, anzi me la auguro, che comunque il riassistamento ci vuole, l'inflazione gioca sempre a sfavore, per il vino come peraltro per la vita di tutti noi e quindi ci auguriamo che questo momento insomma venga sicuramente superato. E con l'Iscina credo che aiutano, perché è una tipologia che in genere stimola molto l'acquisto. In Abruzzo si è fatto una bella cosa con lo spumante, un marchio unico, trabocco, eventi di questo genere sono importanti anche per far conoscere al pubblico questa possibilità? Beh sì, perché io credo che non solo il pubblico, ma anche noi specialisti, in un certo senso, ci ha un po' sorpreso, no? Buzzi in bolle, no? Perché uno non si rende conto che invece magari uno assaggia, beve così, c'è consuetudine, ma non c'è un approfondimento, una focalizzazione. Ecco, questo evento secondo me è interessante proprio perché è mirato, non è generico, non è troppo trasversale, è un po' più mirato e questo secondo me fa bene alla causa. Cosa pensa lei invece del dibattito che c'è, no? Sulle viti di montagna, che lo spumante si dovrebbe fare solo con queste, invece in Abruzzo ad esempio molto si fa sulla costa? Eh, anche qui, meno male che ci sono differenti, non tutti siamo uguali, no? C'è chi va sempre più in alto, ma c'è addirittura chi non solo fa le bottiglie sulla riva del mare, ma appena fatte le mette a 100 metri sott'acqua, no? Quindi il mondo è bello perché è vario, e le motivazioni possono essere differenti, bisogna i panorami pure, no? Le coste, la tipologia del terreno e così via. Quindi non mettiamoci dietro a falsi stereotipi, accettiamo quello che la natura ci dà nel suo modo migliore. Lei si occupa, insomma, un po' a 360 gradi, ha scoperto anche chef importanti, settore della ristorazione, enogastronomia, enogastronomia, dopo il Covid c'è una ripresa? Sì, sicuramente, c'è una ripresa brillante, anzi, i ristoranti quest'anno credo che hanno fatturato come non mai. Il vero problema, si sa bene, a questo punto non è tanto la gente era quanto il personale, qui entriamo in un altro discorso ancora. Una bella giornata questa, per far conoscere ancora di più lo spumante abruzzese. Io le chiedo, c'è in corso un po' un dibattito, sulle viti della montagna, alta montagna, quelle della costa, in Abruzzo la maggior parte si fa sulla costa. Lei cosa ne pensa, da detto ai lavori? Io penso che oggi con la tecnologia che abbiamo e soprattutto con la capacità che hanno sviluppato i produttori è possibile fare ottimi spumanti ovunque, non è più come 50 anni fa. Quindi l'importante oggi non è tanto fare ottimi spumanti, ma comunicarli. Questo è il tema di fondo e quindi l'Abruzzo, che ha già un buon brand, come si dice adesso, deve sfruttare questa opportunità perché le bollicine e gli spumanti sono un modo come l'altro per fare esprimere l'uva. Bisogna berle, comprarle e produrle non pensando ad altre zone, ma pensando a quello che le uve del posto possono dare. Ragionando così si possono avere veramente grandi soddisfazioni perché l'Italia è un paese di anarchici sostanzialmente, ognuno fa quello che vuole. Questo c'ha dei contro ma c'è anche dei pro. Quali sono i pro? Guardiamo positivo. Il fatto che ci si può divertire tanto in maniera molto diversificata da regione a regione, da provincia a provincia. Lei accennava il marchio Trabocco, quindi che ha unito questo. Prima la produzione si faceva fuori, adesso si fa qui. Anche questo è un buon risultato per far parlare di sé. Secondo me sì, nel senso che darsi un marchio comune da un punto di vista regionale, quindi Abruzzo, Doc, Trabocco, aiuta molto la comunicazione. So che c'è anche stato un dibattito, se Trabocco, Gran Sasso, l'importante è aver trovato un nome e adesso spingerlo, perché c'è un aumento del consumo di bollicine in tutta Italia, perché si è alleggerito il cibo, perché le bollicine sono polivalenti, possono andare a tutto pasto, possono essere bevute durante quasi tutto il corso della giornata. Quindi l'importante, secondo me, è crederci, crederci e soprattutto eliminare questioni stupide tipiche italiane, piccolo contro grande, grande contro piccolo, costa contro montagna, montagna contro costa. Bisogna creare un marchio, crederci e poi vinca il migliore. Ecco, in Italia, consumo di vino e di bollicine regge ancora, in altri paesi c'è stato, ad esempio gli Stati Uniti, un calo vistoso, insomma, appannaggio magari dei cocktail che vanno tanto tra i giovani. Beh, questo fenomeno sta avvenendo anche in Italia, nel senso che ci sta una grande ripresa, non si beve meno alcol, forse probabilmente si beve più alcol e soprattutto le giovani generazioni, le giovanissime generazioni sono più propense a provare i cocktail, si divertono di più. Però, voglio dire, le mode vanno e vengono. L'importante è lavorare bene e quando poi si riescono a realizzare i classici si va oltre la moda. Grazie. Grazie. Grazie.